Buongiorno a tutti, io sono Asmilda, oggi vi parlerò di LoMio, un'applicazione che si presenta in lingua italiana e che permette agli utenti di trattare un argomento andando a creare un gruppo privato oppure pubblico in cui le persone possono esprimere la loro opinione rispondendo direttamente dalla loro email privata LoMio può essere gratuita oppure a pagamento, infatti esistono due pacchetti a pagamento con diversi vantaggi Diciamo che per poter discutere su determinati argomenti in maniera semplice bisogna creare un gruppo attraverso la propria email Io ho già infatti creato un gruppo che si intitola Amici a quattro zampe in cui ho posto una domanda e due utenti attraverso la loro email hanno dato la loro risposta Per invitare nuovi utenti è molto semplice, infatti basta mandare loro un invito inserendo la loro email e nel frattempo aspettando una conferma Puoi creare quanti gruppi vuoi e discutere di tutti gli argomenti che desideri Grazie a tutti!